Riflessioni e fornelli a bordo del traghetto Aquarius della Travelmar con Gino Rivieccio per il secondo appuntamento della 17esima edizione della Rassegna Nazionale Editoriale Un libro sotto le stelle organizzata dall'Associazione Meridiani. Il popolare attore napoletano ieri sera a bordo del traghetto che da Piazza della Concordia Salerno ha raggiunto Positano alla presenza di oltre 120 persone ha presentato il suo libro Siamo nati per soffriggere riflessioni e fornelli. Questo non è un libro di cucina, ha subito avvisato Rivieccio ho soltanto bollito in pentola alla luce delle mie esperienze personali riflessioni sulla coppia, sui figli, sui rapporti familiari ho sfornato qualche suggerimento sulla temperatura degli equilibri sociali ho sfilettato delle analisi sulla cottura del nostro paese non rinunciando a mettere sulla graticola quelli che ci hanno ridotto nelle condizioni in cui oggi ci troviamo ho mantecato alcuni aspetti umani e rosolato le aspettative dei giovani nella padella delle loro esistenze il tutto innaffiato da spruzzate di humor e leggerezza naturalmente sale e pepe quanto basta così ai nostri microfoni è stata una serata bellissima organizzata dalla Travel Mar da voi, da Alfonso Giarletta sono stato molto bene, le riflessioni stasera le facciamo sul traghetto le abbiamo fatte di fronte alle emozioni della natura di fronte alle emozioni della costiera amalfitana questo viaggio, questo percorso che ci ha permesso di dibattere, di conversare al chiaro di luna e di fronte all'alchimia, alla magia della vita perché noi siamo dei fortunati che possiamo godere di queste bellezze che il capotreno ci ha regalato serata perfetta anche meteorologicamente era pieno il traghetto tanta bella gente, tanto affetto e devo dire che questo ha consentito anche a me di dare il meglio quindi belle queste presentazioni benvengano perché danno un tocco in più a un'estate che comunque resta un'estate difficile visti i problemi contingenti buona estate, buone vacanze ci vediamo presto, mi auguro a teatro perché vorrà dire che siamo tornati alla normalità e io ricordo sempre che chi ama la lettura e chi ama il teatro ama la vita